Icardi E' subito doppietta E' subito 2 a 0 Dopo un quarto ora Inter 2 Fiorentina 0 E' subito doppietta E' subito doppietta E' subito doppietta E' subito doppietta Gesù stalla rimorto per Icardi che si gira ancora, ancora Mauri Icardi, 2 a 1 Inter, la ribaltata Mauri Icardi. In corsa di Mauri Icardi, spiattato Godis, l'Inter in vantaggio, il gol di Mauri Icardi, raggiunge il quota 5, raggiunge il comando della classifica marcatori, Paolo Di Bala. Grazie a tutti.